Arrestato dai carabinieri ad Alatri su ordine della Procura della Repubblica di Latina, un 51enne del posto già con precedenti penali a carico per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo dovrà scontare una pena a residua di 8 mesi e 7 giorni di carcere per dei fatti che sono accaduti a giugno 2017, quando l'uomo fu arrestato in fragranza di reato in quanto fu sorpreso a Rocca Gorghe, in provincia di Latina, con 22 grammi di cocaina all'interno della sua automobile. Un'ulteriore perquisizione all'interno della sua abitazione permise poi ai carabinieri di trovare ulteriore droga. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari.